Siamo ormai vicini alla solennità di tutti i Santi. Vi invito a vivere questa ricorrenza dell'anno liturgico, nella quale la Chiesa ci vuole ricordare un aspetto della sua realtà, la gloria celeste dei fratelli che ci hanno preceduto nel cammino della vita e che ora, nella visione del Padre, vogliono essere in comunione con noi per aiutarci a raggiungere la meta che ci attende. E preghiamo per la pace. La guerra cresce. Pensiamo ai paesi che soffrono tanto. La martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Mianmar, il Nocchivo e tanti paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace. La pace è un dono dello Spirito. E la guerra sempre, sempre, sempre è una sconfitta. Nella guerra nessuno vinci. Tutti perdono. Preghiamo per la pace, fratelli e sorelle. Ieri ho visto che sono state metragliate 150 persone innocenti. Cosa c'entra nella guerra? I bambini, le famiglie. Sono le prime vittime. Preghiamo per la pace. Preghiamo per la pace. Preghiamo per la pace. Preghiamo per la pace. Grazie a tutti.